Da oggi si accorciano le distanze tra il centro e quartiere e la periferia. È infatti operativo il nuovo servizio di bike sharing gestito dall'azienda RideMovie che approda a Lucca con una flotta di 400 e-bike e 100 bicicletta pedalata muscolare che saranno posizionate in 153 punti strategici del territorio. Il servizio di bike sharing è strutturato attraverso l'utilizzo di un'applicazione. Tutte le biciclette sono dotate di un GPS, quindi di una sim card all'interno della bici che ci dice esattamente in ogni secondo dove la bici si trova. Tramite l'applicazione si potrà sbloccare la bicicletta e rilasciarla in uno dei 153 stalli che abbiamo individuato proprio per l'avvio del servizio. Le stazioni virtuali potranno essere modificate in corso d'opera nell'arco dei sei mesi rinnovabili di durata del servizio sperimentale voluto dall'amministrazione Pardini. L'obiettivo è quello di privilegiare e incentivare la mobilità sostenibile e quindi la mobilità alternativa all'auto. Abbiamo deciso di partire con questo nuovo servizio che vede la possibilità di prelevare e lasciare le bici in ben 153 postazioni diverse del territorio comunale, centro storico, immediata periferia ma anche frazioni e ci auguriamo che il servizio possa decollare anche con degli aggiustamenti in fase sperimentale nei prossimi mesi perché veramente Lucca e il suo territorio si prestano ad essere vissuti con le due ruote. Per incentivare l'utilizzo dei nuovi mezzi i primi dieci giorni sono previste tariffe agevolate. Partiremo con una promozione che andrà avanti per i primi dieci giorni che prevede l'utilizzo della bici a pedalata assistita alla tariffa di un euro di sblocco e di 15 centesimi al minuto mentre avremo uno sblocco gratuito e 75 centesimi per ogni 20 minuti di utilizzo per la bicicletta a pedalata muscolare.